Tutti i migliori Elite Under 23 del panorama nazionale si sono dati appuntamento sabato 3 luglio a Castellucchio in provincia di Mantova per la prova valida quale gran premio comune di Castellucchio trofeo erboristeria professionale La Felce. 148 dei 181 iscritti gli atleti che hanno preso il via per questa prova voluta e allestita con grande passione dalla Lido Bike Consulting del dottor Lido Baracca con la consulenza tecnica della Unione Ciclistica Ceresarese di Simone Pezzini. Una gara ricca di fascino quella che si è corsa sulla pianura mantovana che si disputava sulla distanza dei 174 chilometri 800 metri suddivisi in due diversi anelli. Un primo anello iniziale di 15 chilometri circa da ripetere per 8 volte che comprendeva un tratto di sterrato di 1300 metri e poi 5 tornate da 10 chilometri conclusive per vivere gli ultimi 50 chilometri di corsa proprio nel cuore del centro storico di Castellucchio. Pronti via c'è subito la prima azione interessante di giornata che è portata da tre atleti si tratta dell'olandese Jordan Habetz dell'Amsterdam Racing Academy insieme a Ferenz Sollosi della Northwave Siatek Olmo e a Matteo Fantoni della Viris Vigevano. Questi tre corridori proseguono di comune accordo dopo essere evasi dal gruppo e arrivano a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto e 30 secondi sul gruppo. Un gruppo che chilometro dopo chilometro viene sempre tirato dalle maglie della General Store SGB Fratelli Curia, la formazione scaligera del presidente Diego Beghini che ha tra le proprie fila il favorito della vigilia, quella Christian Rocchetta che è uomo veloce, uomo adatto a questa tipologia di percorso e proprio il lavoro della formazione giallo, nero, verde va a selezionare il plotone. Un plotone piuttosto folto, l'abbiamo detto in apertura, ben 148 gli atleti che hanno preso il via che giro dopo giro continua a perdere pezzi dalla propria coda. Infatti un gruppo che andrà selezionandosi mentre i tre battistrada proseguono sempre di comune accordo. Giornata spettacolare di grande ciclismo a Castellucchio con la regia organizzativa della Ceresarese e soprattutto nata da un'idea del dottor Lido Baracca con questo tratto di sterrato davvero molto particolare, molto interessante che come vedete offre l'opportunità di realizzare delle immagini davvero suggestive. Una prova in più da superare per gli atleti in gara in un circuito completamente pianeggiante. Quindi è gara vera, quella di Castellucchio dove bisogna saper spingere sui pedali ma bisogna anche sapere condurre la propria bicicletta perché sullo sterrato servono abilità non comuni. E lo vedete intanto proseguono nel cuore dell'estate castellucchiese questa azione dei tre battistrada. Tre atleti che chilometro dopo chilometro accumulano diverse fatiche ma che riescono a resistere al ritorno del gruppo. L'ultimo aggiornamento cronometrico assegna un minuto di vantaggio ai tre battistrada mentre alle loro spalle continuano a cambi regolari i ragazzi della General Store SGB Fratelli Curia. A dare manforte ai ragazzi del team veronese sono arrivate anche le maglie della BS Arvedi. Altra formazione interessante aggiungere allo sprint perché tra le proprie fila comprende Nicola Plebani e poi ci sono gli uomini della Petroli Firenze Opla Don Camillo che hanno in Davide Ferrari il proprio punto di riferimento per gli sprint. Quando siamo ormai a 60 km al traguardo ultimo passaggio sullo sterrato al comando della corsa rimangono in due. Infatti Ferenz Sollosi a causa di una foratura deve alzare bandiera bianca e quindi i due attaccanti della prima ora devono proseguire da soli. Si tratta appunto di Jordan Abetz l'olandese dell'Amsterdam Racing Academy e di Matteo Fantoni della Viris. Vigevano con il gruppo però che si fa sempre più vicino ai due battistrada. Ora a dare maggior impulso sono proprio le maglie della BS Arvedi che in questo appuntamento mantovano vogliono ben figurare. Un appuntamento lo abbiamo detto davvero suggestivo, spettacolare e voluto appositamente così per dare spazio a quegli atleti che puntano ad essere protagonisti nelle classiche del Nord a partire dalla strada bianca di Siena ma poi soprattutto non tanto sugli sterrati ma quanto anche all'interno dei tratti di pavé come le Paris-Giroubaix, il Giro delle Fiandre, la Gamve-Velgem, le grandi corse che hanno reso grandi i campioni, che hanno fatto la storia del ciclismo. Castellucchio si ispira proprio a questa grande storia per una prova con questo Gran Premio Comune di Castellucchio Trofeo Erboristeria Professionale La Felce che sta regalando grande spettacolo. Sono ancora più di 100 gli atleti che compongono il gruppo in seguitore ma ci sarà un'altra accelerata importante a breve in testa al gruppo che andrà a spezzare proprio questa fase di calma. Vengono ripresi due attaccanti, gruppo compatto al comando della corsa ma un gruppo ormai ridotto ad una ventina di unità. Infatti come vedete sono pochi gli atleti che sono rimasti davanti a tutti e che sono riusciti a resistere al forcing della General Store e della BS Arvedi. Li vedete transitare nel cuore di Castellucchio quando ormai siamo già nel circuito conclusivo che andrà affrontato per 5 volte. Un anello di 10 km che riesce a mettere le ali a questi 25-30 corridori che riescono a fare la differenza mentre alle loro spalle il gruppo è molto molto frastagliato e difficilmente riuscirà a chiudere da questa accelerazione. Vedete un gruppo frantumato in più tronconi, in più gruppetti, atleti ormai sparsi ovunque e sarà dunque un finale spettacolare perché nel primo drappello ci sono tutti i più attesi della vigilia. Si transita nel cuore di Castellucchio per il suono della campana con un gruppo forte di una trentina di unità. Non sono più di 30 gli atleti in testa alla corsa, sono quelli ormai che sono destinati a giocarsi il successo finale in questo Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo e erboristeria professionale La Felce. Nulla da fare ormai per gli inseguitori che sono destinati ad alzare bandiera bianca e ad alzare il pedale dall'acceleratore. Per loro ci sarà la possibilità di rifarsi nelle prossime occasioni ma ormai qui a Castellucchio si è già concentrati nella lotta per il successo finale. Un successo che si assegnerà con uno sprint a ranghi ristretti e ad uscire in testa dall'ultima curva è proprio Cristian Rocchetta, il veronese che va ad aggiudicarsi il quarto successo stagionale davanti a Nicola Plebani della BS Arvedi e a Davide Ferrari della Petroli Firenze Opla Don Camillo. Seguono quindi Riccardo Sofia, Matteo Furlan, Matteo Fiaschi, Davide D'Aporto, Michael Minali, Lorenzo Cataldo e Diego Bosini. Dunque poker stagionale per Cristian Rocchetta che a Castellucchio può brindare ad un successo davvero straordinario.